Don Mario, questo terzo tir è passato prima dalla parrocchia Madre Teresa, quindi avete già caricato molta roba, che cosa in particolare? Abbiamo caricato tutti i geni alimentari e anche tante medicine, certamente è rimasto un po' tutti gli vestiti che sarà il prossimo tiro ancora che partirà da Grosseto. Il lavoro continua comunque? Il lavoro continua, c'è una grande generosità e risposta veramente da parte di tutti. In più, come parrocchia stiamo facendo un servizio a domicilio per tutti quelli che sono già arrivati a Grosseto, quindi la parrocchia sta sostenendo anche tutte le famiglie che sono arrivate, portando anche a casa la spesa, i vestiti, tutto quello che è necessario per loro. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.